E l'Ordine degli Psicologi della Puglia ha attivato una task force per intervenire in merito a richieste di aiuto relative a condizioni psicologiche di ansia, angoscia, paura del contagio e fragilità emotive. Siamo collegati telefonicamente con la dottoressa Anna Palumbo, consigliera dell'Ordine degli Psicologi di Puglia e segretaria della Società Italiana di Psicologia di Emergenza. Salve dottoressa e benvenuta. Ci dia qualche indicazione, qualche suggerimento, qualche consiglio per affrontare questo periodo purtroppo dettato da ansia, paura e tanta fragilità emotiva. Sì, certo. Diciamo che come primo aspetto fondamentale per ridurre un pochino l'ansia, anche nello stare a casa che oltre a ridurre il rischio di contagio riduce anche il rischio dell'ansia, perché in qualche modo la casa rappresenta il posto sicuro, uscire fuori significa in qualche modo entrare in contatto con il mondo e quindi con il rischio possibile di contagio. Quindi in qualche modo lo stare a casa attenua queste paure, quindi questo tipo di paure. Altro aspetto fondamentale secondo me è quello di non stare sempre attaccati sui social alla ricerca delle notizie, perché molto spesso questo amplifica quella che è la percezione del rischio. È vero che la percezione del rischio c'è, è realistica, però molto spesso diventa amplificata e questo aumenta gli stati di ansia. Io ritengo che bisognerebbe principalmente utilizzare i social come modo di mantenere invece il contatto con gli altri, quindi con gli amici, familiari, ma anche attraverso l'utilizzo delle videochiamate, perché il contatto sociale, il supporto sociale riduce in qualche modo l'ansia, perché aumenta il concetto di identità collettiva, quindi le persone si sentono unite e si supportano vicendevolmente. Ecco, questi sono i due aspetti principali da tenere in considerazione. Benissimo, dottoressa. Per quanto riguarda invece le famiglie che hanno al loro interno dei bambini, che probabilmente non capiscono al massimo, non capiscono che cosa stiano vivendo in questo momento storico. Sì. Allora, per quanto riguarda le famiglie, innanzitutto è necessario comunque spiegare ai bambini, utilizzando comunque un linguaggio che sia appropriato con la loro età, senza forme diciamo drammatiche, ma sempre con un atteggiamento positivo, di guardare comunque al futuro come un qualcosa che passerà, eccetera, però va spiegato perché comunque i bambini sono bombardati dai televisori accesi, utilizzano anche loro molto spesso i computer, i telefoni per cornettersi, quindi loro le notizie comunque le apprendono e bisogna quindi in qualche modo ridimensionarle rispetto ad una percezione del rischio più realistica. che si può fare con loro anche attività attraverso i disegni, fare delle cose insieme, i giochi in qualche modo, che stimolano delle emozioni che siano per loro positive. Perfetto, la ringrazio per queste indicazioni, questi suggerimenti che ci ha dato, e davvero ci auguriamo che questa emergenza possa finire al più presto. Esatto, intanto grazie a lei e a tutti gli operatori che stanno davvero svolgendo un lavoro importante in questo periodo. Grazie alla dottoressa Anna Palumbo, grazie per essere stata con noi, con questo collegamento telefonico concludiamo.